Notizie da Milano. Vi farà cadere le braccia per quello che è stato annunciato. Ma prima di dirvelo, vorrei che lasciaste il vostro pulsante e mi piace per ricevere tutte le ultime notizie sul Milan. Il Milan si è nuovamente legato al difensore del Fenerbahce Ferdica Dioglu, che nelle ultime settimane ha suscitato l'interesse anche del Liverpool, leader della Premier League. Come riportato in Turchia da Turchi e Gazetesi, i rossoneri hanno riacceso l'interesse per il 24enne Cadioglu, giocatore che è stato più volte accostato al club rossonero. Il giocatore è stato anche coinvolto nell'affare della cessione di Rade Krunic a gennaio. Oltre al Milan e al Liverpool, anche l'Inter, il Napoli e il Borussia Dortmund sono stati accostati al centrocampista, quindi la concorrenza per il suo ingaggio è molto alta. Ha un contratto con il Fenerbahce fino al 2026 e uno dei suoi principali punti di forza è che, sebbene si trovi meglio a sinistra, può giocare come centrale su entrambe le fasce. Il Fenerbahce avrebbe già trovato un accordo con un'altra squadra turca per l'ingaggio di un terzino sinistro in sostituzione di Cadioglu, quindi è chiaro che c'è un accordo da fare se una delle squadre sopraccitate vuole fare un'offerta. Il Liverpool dovrebbe muoversi per lui solo se uno tra Andy Robertson e Kostas Zimikas lascerà il club nella finestra di trasferimento estiva. Il Milan ha bisogno di un terzino sinistro naturale per fare da riserva a Tio Hernandez, anche se in rosa ci sono alcuni giocatori che possono fare il lavoro su entrambe le fasce, come Alexi Jimenez, Filippo Terracciano e Alessandro Florenzi. Ora tocca a voi, sarebbe una grave perdita per il Milan, ditemelo nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.